Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su instagram, tranquilli troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione! Amici del grande calcio, bentornati su senza agire di parole, oggi in questo video voglio parlare dell'inizio in serie A di Kim Min Jae, io sono Biazaku e io Tatsuna. Cosa vogliamo dire di questo ragazzo? Che dalla Turchia, ancora prima, dalla Cina, si affaccia all'Europa, al primo anno in Turchia si presenta benissimo e viene notato da una squadra come il Napoli e al primo anno in serie A praticamente sta fornendo delle prestazioni da veterano e poco. La cosa che fa più impressione di Kim è che è arrivato con la pressione, e lui l'ha detto più volte, di averla sentita, di dover sostituire un calciatore come Koulibaly che atleticamente per il nostro campionato era, non saprei neanche come definirlo, qualcosa di anomalo e l'ha sempre dimostrato in tutte le salse. E lui arriva dopo un anno in Turchia, un solo anno in Turchia, che poi arriva a un anno in Europa, ma Europa tra grandi virgolette perché è vero che la Turchia fa parte della UEFA, però non è che tu in Turchia vivi le serate di grandi calcio come siamo abituati noi. E Minghe, che è partito come Kim Minghe, ricordiamolo, come tanti altri che partono abbastanza male con i nomi, si è veramente superato da qualsiasi punto di vista, superato qualsiasi aspettativa. Non è l'unico calciatore del Napoli ad aver fatto questa cosa quest'anno, però lui in maniera particolare, perché laddove, noi questo lo diciamo spesso, ragazzi lo diciamo spesso, però lo ribadiamo per bene qui, laddove un calciatore come per esempio l'attaccante ha molte possibilità di rifarsi anche di un errore, perché un attaccante può sbagliarlo un dribbling, ok? Anzi, prendete Kvarraskelia, ha più dribbling sbagliati che riusciti fino a questo momento, però Kvarraskelia sicuramente ha lasciato un impatto incredibile tra i tifosi del Napoli e non. Ora immaginatevi se un difensore facesse grandi cose, grandi interventi, però allo stesso tempo ne sbagliasse altri, sarebbe clamoroso. E proprio per questo motivo noi sappiamo che la difesa è qualcosa in cui tu devi sbagliare il meno possibile. Un giocatore ancora giovane arrivi dopo un solo anno passato in Europa, ancora tra virgolette, e si imponga in maniera così tanto risoluta, è incredibile. La cosa che mi ha sorpreso di più è stato proprio il fatto che lui è riuscito fin da subito ad entrare nel modo di ragionare del Napoli, che è una squadra che difensivamente parlando ha una sua identità ben chiara, devi subito entrare nei meccanismi del palleggio, quindi devi avere il coraggio di impostare, il coraggio di anche lanciare, allargare il gioco. Sta avendo quel coraggio che aveva un certo Kalidu Kulibali di venire a mangiare in testa a tutti gli avversari anche al limite del centrocampo, cioè ve lo possiamo vedere benissimo da questa hitmap dove ha il coraggio di spingersi Kim. Parte da qui e quando la squadra sale tutto quanto insieme lui va addirittura a mettersi in queste posizioni che sono molto al limite. E quindi sta sia facendo un inizio di stagione dove sta cercando di non sbagliare niente, di essere perfetto, cura tutti i particolari, ma allo stesso tempo non si sta lasciando qualche atto di spregiudicatezza. Magari ha fatto anche delle discese vado al piede in alcune partite dove se ne aveva andato in dribbling da solo, a volte ha fatto addirittura lanci lunghi, ha provato ad inserirsi, cioè sta facendo veramente tutte e due le cose. Poi se andiamo a considerare comunque ha già fatto due gol e questo per un difensore non è da sottovalutare perché è un difensore che in sette partite ti riesce a fare due gol da calcio ad angolo è un'arma in più pure in attacco, non solo in difesa. Io credo che l'elemento in cui lui più di tutti abbia superato le nostre più grosse aspettative è il dominio aereo. Ma perché lo dico? Ah perché noi l'avevamo indicato come uno dei suoi punti di forza principali nel video che facemmo di lui prima che arrivasse a Napoli ufficialmente. Se volete lo riguardatelo, lo trovate sicuramente alla fine del video, tra i video consigliati. Però francamente io non mi sarei mai aspettato questo dominio dal punto di vista aereo. Vi do soltanto due numeri per rendere l'idea perché basterebbe semplicemente che vi chiedessi di andare a recuperarvi un paio di colpi di testa di Kim. Il Napoli storicamente squadra piuttosto inferiore numericamente parlando con i duelli aerei. In questo momento storico alla sosta delle nazionali di settembre 2022 è la terza squadra in Europa a vincere più duelli aerei. E la terza squadra d'Europa, la terza, tra tutte le squadre d'Europa, il Napoli è la terza. E chi è che vince più duelli aerei nel Napoli? Chi vince con il 71% dei duelli aerei vinti? Il 71%, per mettere i dati in prospettiva, Zambo, anghissà, che è un centrocampista, ne vince 60%. Per esempio vi prendo il secondo miglior difensore nel Napoli per colpi di testa, che è Rachmani, che di testa è forte, penso che sia piuttosto innegabile, difensore alto, statuario, che ha anche una buona elevazione, ne vince il 54%, che è buono, perché è già più della metà dei duelli aerei che ingaggi. Ma Kim ne vince il 71%. 31 duelli aerei ingaggiati, 22 vinti e 9 persi. Ma sono numeri che non hanno un conto di normalità. E quindi Biazzago ha fatto molto bene a farvi notare che ha già segnato due gol, perché non si tratta soltanto della capacità che è piuttosto usuale in alcuni difensori di trovare facilmente la via del gol, si dice dei difensori con il vizio del gol. È proprio un predominio incredibile dal punto di vista aereo, che non ha a che fare soltanto con la semplice elevazione e con l'altezza, che sono sicuramente importanti ma non fondamentali, quanto proprio la lettura delle palle aeree, che è impressionante. No, ma di testa è veramente un mostro. L'ho visto andare leggermente in difficoltà soltanto con un giocatore come Chirou, che fa del colpo di testa praticamente la sua specialità ed è tra i più forti al mondo. In tutto questo comunque ho riuscito a battagliare. Mi piace il termine che usa tanto Bergomi quando parla di lui. è un soldato, è letteralmente un soldato, cioè un giocatore che è sempre pronto ad intervenire su qualsiasi azione dell'avversario. Pensa rapidamente e devo dire per il momento, è incredibile da dire, non sta facendo sentire la mancanza di un giocatore come Khalidu Kulibali. Ed è assurdo. Praticamente il complimento più grande che uno gli possa fare. Anche perché io e Biazzaco eravamo a lutto per la chio di Kulibali. Allucinante, veramente allucinante. E anche su Kulibali e sul suo addio ci abbiamo fatto un video. Magari lo mettiamo alla fine del video. Ricordiamo sempre che anche lui, come l'altro giocatore di cui abbiamo parlato in uno scorso video, che è Quara, ha praticamente debuttato in Serie A, quindi un campionato più importante, debuttò in Champions League, dove ha giocato una partita super con giocatori fortissimi come l'attacco del Liverpool, cioè tantissime prime volte anche per questo giocatore e anche lui si è dimostrato subito pronto. Va bene quando si fanno i complimenti al direttore sportivo perché sai, tu il talento lo devi andare a cercare, ma io sono sicuro che nemmeno Cristianone, che è un grandissimo scopritore di talenti, poteva mai immaginarsi un inizio del genere di Kim Min-Jae e Kwarazkelia. Giocatori che già attualmente hanno alzato il loro valore di mercato di tantissimo e siamo soltanto alla settima giornata, quindi sono troppo curioso di vedere come continuerà la stagione di Kim Min-Jae. che, ricordiamo, appena arrivato era Kim Min-Jae. E adesso lo possiamo ribaltare perché invece di dire ma Kim Min-Jae possiamo dire ma Kim Min-Jae è questo? Ma Kim Min-Jae è questo? Ma dove è uscito? Questo video finisce qui. Ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella se volete sempre rimanere aggiornati sui video che usciranno su questo canale, lasciate un commento e fateci sapere cosa ne pensate voi di Kim Min-Jae e del suo inizio con il Napoli e noi ci rivediamo in un prossimo video.